3, 2, 1, aspetta, vai! Merda, me l'hai lasciata troppo prima! No, troppo dopo, subito stacca destra 2 e taglia, eh! Dentro, prima, prima! 30, sinistra 2, due tempi, secondo, chiude, taglia! Dai, secondo, chiude, taglia! 50 vista, giù, destra 4, 20! Attenzione, taglia sinistra 3, taglia sinistra 3, eh! 100, dentro, giù, giù, 100! Attenzione, dosso dritto, 20! Attenzione alle piante destra 2, taglia poco! Stacca un po' dopo, va bene, taglia poco, dentro! Poi apre, giù, giù, 100 a vista! Alla casa, sinistra 4, 80! A fine si apre, destra 3, sporca! Per attenzione al vuoto, molta attenzione! Sinistra 2, più, sta interno sporco! Sta interno sporco! In destra 4, più! 100 a vista, vai! Agli alberi, sinistra 4, lunga! 20, molta attenzione alla chiesa, sinistra 3, meno, 3, meno! E subito inversione destra! Brava! 50! Giù, giù! 50, addosso! In destra 4, più, vai! 50! Cambia, vai! Sinistra 4, più! Per destra 5! 30! Destra 4, più lunga, stacca chicane! Entra a sinistra, alla ringhiera verde! Vai ancora! Boh! Stacca! Per sinistra 4! 50! Alla ringhiera sinistra 3, più! 50! 3, più, 50! Attenzione! Dai, dai! Inversione sinistra 1! Strenta, rotta! Non stretta! 120! Giù, giù, giù! 120! Al cartello, sinistra 4, più! Sinistra 4, più! Per destra 3! Vai, vai! 4, più! Destra 3, laggiù! Subito sinistra 3, più! Subito sinistra 3, più! Vai! 20! Sinistra 4, vai! Sinistra 4, in destra 4! Destra 4, vai! Per sinistra 3, sporca! 3, sporca! E subito destra 3, sporca! In sinistra 2, sporca! 2, sporca! Apre poi! 50! Apre! Vai! 50, attenzione! Destra 4, meno! Lunga, agganciala, eh! Agganciala! Dove vedi? Agganciala! 20! Vai, vai, vai! Sinistra 4! Per destra 4, non tagliare! Per sinistra, destra 4! 4, vai! Sinistra, destra 4! Per Albiri! Attenzione! Sinistra, destra 4! Sinistra, destra 4! Vai! In sinistra 4! Vai! Vai! Mommolare! 50! Dosso! Molta attenzione! Destra 3, più! taglia scompone! Tra i più taglia scompone! Dentro! 80! A vista! Brava! Al palo! Al tetto! Attenzione! Tornante destro lungo! Tornante destro lungo! 50! Brava! Tieni! Tieni! Vai! Vai! Al cartello sinistra! 2, 2 tempi! 2, 2 tempi! 22! Cambia! 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 Inversione destra! 50! Al blu! Sinistra, destra 3 meno! Non tagliare! Sinistra, destra 3 meno! Non tagliare! Per sinistra 4! Sinistra 4! Per al palo sinistra 3 più! 3 più! In destra 4! In attenzione al bianco! Sinistra 3 meno lunga! Brava! 3 meno lunga! In destra 3! Subito sinistra 2 gira! Subito sinistra 2 gira! 20! 2 gira! Dai! 20! Tornante destro non tagliare! Tornante destro non tagliare! Tengo sempre la seconda! Va bene! Va bene! Subito tornante sinistro! Subito! Dai! Dai! Tornante sinistro! Bucco in uscita! Per tornante destro! Occhio aggancialo! Adesso aggancio! Tornante destro aggancialo! Apre! Dentro! Dentro! Giù! Giù! 100! Tornante sinistro! Rasala dopo! Rasala dopo! Rasala dopo! 50! E giù sinistra 4 lunga tieni! Subito! Tornante destro! Subito! Tornante destro! Brava! 20! Aggancialo! Tornante sinistro! Sta interno! Tornante sinistro! Sta interno! 30! Accenno destro! E dopo l'accenno destro abbiamo il tornante destro! Taglialo eh! Tacca dopo! Dopo! Tieni! Tacca! Per dentro! Per sinistra 4 lunga non tagliare! 4 lunga non tagliare! In alla chiesa! Attenzione! Taglia a destra! 3 meno scompone! 3 meno scompone! 40! Dava! 40! Ray sinistra a destra! 4 meno! 30! Attenzione! Sinistra! 1 chiude! Non tagliare! 1 chiude! Non tagliare! 50! Sinistra 4! Dai dai! Giù! Giù! Per alla siepe! Ritarda! Destra 2 più! Apre! Ritarda! 2 più! Apre! 80! Destra 5! 50! Sinistra 4! Non tagliare! Per Arrail! 4 non tagliare! Arrail! Destra 2! 2 tempi! 2! 2 tempi! Tempo 1! Guarda lontano! In sinistra 4! più lunga lunga! 4 più lunga lunga! Tienila! 50! Tienila! Alla pianta! Molta attenzione! Destra 2! E subito! Sinistra 2! Chiude! Subito! Sinistra 2! Chiude! 100! Sinistra 4! Sudosso scende! 4! Sudosso scende! In sinistra 5! Lunga! 5 lunga! 120! 120 a vista! 120 a vista! Vai! Vai! Attenzione in fondo! Destra 3! 2 tempi! Secondo! Alla gru lo devi tagliare! Secondo! Alla gru lo tagli! E poi la butti nel sinistra 4! Sta interno! 4! Sta interno! Vai! Nella casa! Destra 4! E subito! Molta attenzione! Pivio! Destra 2! Più! Dai! Dai! Giù apri! Sinistra 5! Vai! 60! Destra 4! Destra 4! Laggiù! In sinistra 4! Più lunga! 4! Più lunga! In dosso! 4! Più lunga! Tienila! 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 In dosso destra 4! 20! Vai! Allo specchio destra 3! Più apre! 4! Lunga! Vai! 50! Brava! Attenzione al palo! Chicane! Entra sinistra! Entra sinistra! Dosso dritto! E 20! Inversione sinistra! Inversione sinistra! Dai! Tutto abbiamo finito! 100! Allargati! Allargati e giù! 100 a vista! Giù! 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 A rovescio! Destra 5! Iperdestra 5! In sinistra 5! Tieni giù! Non mi molare! In destra 4! Più vai! Non molare! 4! Più vai! 150 a vista! Vai! Vai! Tieni giù! 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 Tieni giù!